ciao roberta e un saluto a tutti i lettori di teste fiorite bentornati per un approfondimento di noccioline video sul tema dell'immagine disegnata tema che è anche protagonista delle puntate di ave un posto 31 la diretta che da questi studi di cube radio va in onda tutte le settimane live dalle 17 30 alle 19 sul canale cultura pop ita di tom's hardware su twitch oggi per parlare di un avvenimento triste purtroppo ma che ci dà l'occasione di approfondire alcuni aspetti anche questa volta dedicati al mondo della cultura giapponese qualche settimana fa è giunta la notizia che ha veramente rattristato molto così tutto il fandom cioè il mondo del fumetto e degli appassionati del fumetto giapponese della scomparsa di kentaro miura scomparsa solo i 58 anni di questo autore celeberrimo nel mondo è molto carismatico in quanto autore di un personaggio estremamente amato che si chiama berserk una saga fantasy questo protagonista questo guerriero che durata più di vent'anni e che questo autore ha portato avanti per così tanto tempo perché partiamo da questo evento triste perché l'ondata di cartoni animati contenuti audiovisivi che ci sono arrivati dal giappone e che sono sbarcati in italia tra la fine degli anni 70 e poi per tutti gli anni 80 fino ai 90 ha creato in qualche misura un po di aura leggendaria attorno ai mangaka cioè agli autori di fumetto giapponese in quanto in grado di realizzare storie che poi si trasformavano in cartoni animati diventavano personaggi celeberrimi a livello mondiale e quindi un'intera generazione di disegnatori di autori è cresciuta un po con il mito di questi di questi personaggi ma ad andare bene a vedere dietro le quinte si scopre che le cose non sono poi così dorate come come può sembrare per capirlo dobbiamo fare alcune dare alcuni riferimenti e questo ci dà anche l'occasione di parlare di un'opera molto interessante allora giusto per darvi un'idea i fumetti giapponesi noi li vediamo pubblicati in italia in un formato che in origine si chiama takobon il takobon è praticamente un volumetto in cui ci sono le storie di un stesso personaggio che vanno raccolte in sostanza no in questi volumetti di quelle azioni diverse possono essere più o meno pagine ebbene in giappone inizialmente i fumetti non escono così escono appuntate in questi ponderosi magazine tematici cioè ce ne sono sullo sport sull'avventura sulle storie sentimenti e quant'altro che sono stampati su una carta poverissima sono molto spessi possono raggiungere talvolta anche le mille pagine in cui ci sono dentro tante storie tanti autori diversi quando un autore una storia riesce a centrare un personaggio che entra nelle simpatie dei lettori i lettori richiedono gli editori ovviamente chiedono l'autore di produrre più pagine lasciano più spazio a questo personaggio ora queste riviste sono settimanali e alcuni autori arrivano a pubblicare quando sono nell'onda del successo anche 20 30 pagine del fumetto a settimana ora giusto per darvi così un riferimento no un fumetto italiano come un numero di tex per intenderci no chiamato proprio formetto fumetto formato bonelliano proprio perché è pubblicato dalla sergio bonelli editore che è un fumetto di 94 pagine in bianco e nero mediamente per essere realizzato dal disegnatore ha bisogno di un tempo che va tra gli otto e i dieci mesi ai quali va sommata la stesura della sceneggiatura del soggetto della sceneggiatura e poi tutto l'editing interno la copertina e quant'altro quindi mediamente così in maniera molto indicativa ovviamente per la realizzazione di numero di text di Dylan Dog di Martimistari e quant'altro ci vuole un anno questo fa sì che una testata che esce con 12 numeri l'anno spesso sono molti di più perché ci sono almanacchi speciali e quant'altro ha bisogno di uno staff di disegnatori molto ampio ben coordinato che disegni in maniera simile diciamo così e che soprattutto interpreti il personaggio in una maniera che abbia una sua continuità in giappone questo non accade è l'autore singolo che si prende carico della realizzazione delle storie e lo fa a ritmi di anche appunto come dicevamo 15 20 tavole a settimana a cui vuol dire 60 80 tavole al mese che è davvero un'enormità vero che il nostro stile realistico impone dei tempi più lunghi e che i manga hanno uno stile diverso che permette una certa rapidità in più ma rimane comunque uno sforzo gigantesco quindi paradossalmente gli autori giapponesi quando arrivano al successo si ritrovano spresso scostretti in un gioco infernale dal quale è difficile uscire perché più aumenta il successo del personaggio più aumenta la richiesta di materiale su quel personaggio di tavole e che sono chiamati a realizzare alcuni di loro si strutturano con assistenti in una sorta di studio c'è chi ha fatto una fatto diventare la propria attività di manga che ha quasi quella non dico industriale ma da agenzia no un esempio su tutti per esempio erumiko takashi l'autrice di di lamu di ram ma di mesonikoku no e che si avvale di un folto gruppo di di assistenti tuttavia anche gli assistenti entrano in questa in questa situazione un po perversa ricordo solo così per amore di cronaca che anni fa tetsuo ara autore disegnatore di kenshiro kutono ken il titolo originale dovete andare dovete rispondere in sede di processo per la morte di uno dei suoi dei suoi assistenti letteralmente sul tavolo da disegno per un calco per una causa di un collasso cardiaco quindi come vedete la questione è piuttosto è piuttosto così seria no ebbene questo ci dà così la stura per parlarvi di un'opera che in questo senso trovo interessantissima è una graphic novel l'autore è ideo azuma e la graphic novel si intitola il diario della mia scomparsa ideo azuma è un nome che potrebbe ad alcuni non dire granché invece in realtà lo conosciamo benissimo perché ideo azuma è l'autore di un personaggio dei fumi dei cartoni animati che è stato famosissimo in italia che è pollon la famosa pollon combina guai proprio quella no la ragazzina figlia di apollo che vuole diventare una dea ma anche di un altro contenuto interessante che è nana supergirl ebbene ideo azuma alla fine degli anni 80 e all'apice di questo successo che lo ha reso un autore in realtà conosciuto in tutto il mondo attraverso le proprie opere non regge la pressione di questo sforzo umano e professionale e crolla un crollo che lo porta progressivamente a diventare sostanzialmente un clochar tipo come potremmo definirlo noi cioè un senza tetto che vive di espedienti che ha grossi problemi con l'alcolismo la droga e che fa un percorso una lenta e progressiva discesa agli inferi che a un certo punto quando in qualche modo ne viene fuori decide di raccontare il diario della mia scomparsa racconta proprio questo ed è una quella che noi dal nostro punto di vista potremmo definire una graphic novel autobiografica che fa tutto questo per cui descrive questo percorso e questo percorso di disagio progressivo di allontanamento dalla società di incapacità di riuscire a sostenere ritmi così assurdi e forse nati la cosa interessante e in con questo ci richiamo a concetti che avevamo già di cui avevamo già parlato nelle noccioline video precedenti è che non lo fa cambiando registro stilistico cioè idea zoom nel momento in cui va a raccontare qualcosa di così personale così drammatico non cambia stile è disegnato come disegnava pollo questo a riprova di quanto già avevamo detto precedentemente cioè per la cultura giapponese o perlomeno per la cultura del fumetto giapponese non c'è differenza il fumetto giapponese è per tutti abbraccia tantissimi generi e trasversale e lo fa con uno stile che ha codificato lungamente e che è uguale per argomenti e tematiche diverse mentre noi quando vediamo lo stile dei manga per via appunto di alcune caratteristiche intrinsiche l'uso del segno gli occhi grandi il tono spesso umoristico tendiamo a collocarlo inesorabilmente dentro a un contenuto per ragazzi o addirittura per bambini non è così in questo senso il diario della mia scomparsa è interessantissimo perché da un lato ci dà una uno spaccato reale visto dall'interno della condizione dell'autore del mangaka nella nel nel mondo dell'editoria giapponese da un lato e dall'altro ci dimostra come con quello stile con quegli stilemi grafici con quel tipo di narrazione e di linguaggio si può raccontare sia qualcosa di così leggero così umoristico divertente come pollon ma anche il così proprio il tormento e la fatica di una persona che molla tutto come si dice perché non ce la fa più ecco con questo stimolo come sempre alla ricerca e alla scoperta di cose diverse e nuove io vi saluto e saluto te roberta e vi do appuntamento alla prossima pillola di noccioline video